Frontale, questa mattina intorno alle 10 e mezza, a Fusignano, alle porte del paese, lungo via Santa Barbara, l'arteria principale che collega il centro abitato con Lugo. In prossimità dell'incrocio con via Carrara-Ripe di Fusignano, per un'invasione di corsia le cui cause sono ancora da accertare, all'altezza di una lieve curva, una Mercedes classe A 170 su cui viaggia un uomo di 60 anni e una Fiat Panda con una bordo, una coppia, si sono scontrate andando a bloccare il traffico sulla provinciale. Sul posto sono dovuti intervenire tre mezzi di soccorso, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli, due pattuglie dai carabinieri e due volanti della Polizia Municipale per deviare il traffico in uscita e in entrata a Fusignano. I feriti sono stati trasportati nel più vicino ospedale di Lugo, diversi i traumi riportati, ma nessuno di carattere particolarmente grave.